Sì, lui è scappato, gli hanno buttato la pistola in mezzo al campo. Il povere è lato da 35-40 anni, ha detto, una bella donna. Ed è stato il marito. È stato il marito? Sì. È stato il marito. Ma l'ambulanza da quant'è che è arrivata? Non va via. 40 minuti. 40 minuti. È morta, dai, è morta. È morta? Sì, è morta questa l'ambulanza, lo vedi? Questa qui sarà. Sì, 40 minuti. Praticamente lui è entrato. Lei stava... Ha bevuto una birra, con un tempo di bere una birra. Il barrista ha detto, come ha visto, che questo ha cominciato a sparare. Si è buttato dire al bancone, si è steso per terra, ha sentito i spari. E poi si è rialzato, quello è scappato e poi è stata per terra. Era il marito. Eh, non ci sa, io non lo so. Era il marito. C'era un signore che li conosceva, ha detto che era il marito. Non ci siamo arrivati dopo, tardi, non lo so. Io hanno sentito tre botte. Cosa? Come dici? Io hanno sentito tre colpi di pistola. Per gennaio 4. Ho sentito tre colpi di pistola.